Lo scontro continua. A Vincenzo De Luca non sono andate giù le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri ha ribadito la necessità di tenere le scuole aperte in Italia perché la didattica a distanza crea diseguaglianze. La replica arriva a margine del Consiglio regionale. Ho ascoltato la conferenza del Presidente che ho trovato per un verso sconcertante e per un altro insopportabilmente demagogica, ha commentato il Governatore ricordando le richieste arrivate da presidi, sindaci e genitori. Draghi ha scelto un obiettivo di comodo per parlare mezz'ora, ha proseguito De Luca, candidandosi anche lui a iscriversi al club degli sfondatori di porte aperte. Oggi avremo bambini senza mascherine perché le FFP2 non sono arrivate e mi dicono che sono costretti a stare in classe con le porte aperte. Se può fare piacere anche la campagna, da oggi può dire che va tutto bene, sottolinea De Luca che tutto è aperto, che il Covid è un raffreddore e se volete posso anche giurarvi di aver visto il Presidente Draghi camminare sulle acque del Tevere, ha ironizzato il Governatore. Oltre lo scontro regione-governo sul campo restano le preoccupazioni di famiglie che invocano l'accelerazione sulla campagna vaccinale. C'è chi rinuncia a mandare i figli a scuola, i sindaci sono alle prese con casi di contagio e temono, dopo i richiami del Prefetto, di emanare nuove ordinanze. C'è anche chi si dice pronto però a sfidare lo Stato di diritto per la tutela della salute. Il caos ancora una volta è servito.